Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Poi ho trovato un ragazzo che è appassionatissimo di Lifesim, si chiamano Lifesimulator, fondamentalmente Lifesim, ve lo consiglio, guarda, perché lui fa i tutorial, proprio tutorial parla di un tranquillo, vi giuro, ogni tanto me li metto in sottofondo giusto per, aspetta, vediamo se lo trovo, eccolo qua, si chiama, che nome ha? Si chiama Indie Gameplay Ita, genericissimo, si chiama Indie Gameplay Ita purtroppo, però è molto bravo e fa i tutorial di tutti i Lifesim, fondamentalmente anche Arc, qualche survivor. Beh, allora, io prima di tutto ringrazio io Tobi per la citazione, per il fatto che mi ha detto che ho fatto un buon lavoro, insomma, in questi tutorial, si riferisce ovviamente ai video su Mombazoo e My Summer Car, My Summer Car ho fatto un tutorial completo di montaggio auto, mentre in Mombazoo ho spiegato tutto, 360 gradi, lo stato attuale del gioco, con tutte le varie cose che si possono fare. Mi dispiace soltanto l'ironia sul nome, perché io ai tempi quando creai il canale volevo dare un'impronta fondamentale al canale, non lo ritengo un nome generico, perché Gameplay Ita è scritto in ogni gioco, è vero, e per quello volevo entrare più in testa, ma soprattutto Indie, perché il canale è focalizzato sui giochi Indie. Faccio questa spiegazione per chi magari è arrivato, dato che ho visto che c'è stato un aumento di iscrizioni negli ultimi due giorni, chi è arrivato qui sul consiglio di io Tobi, per prima di tutto ringrazio ancora io Tobi, Karim, io porto tre giochi a settimana, generalmente, salvo imprevisti, giochi nuovi, giochi prettamente Indie, nuovi, insomma, di sviluppo indipendente, quindi non in tripla, non porto COD, non porto roba grossa, più ad ordine sparso tutorial vari sui vari simulatori di vita, che mi piacciono molto, mi stanno piacendo tantissimo, tra cui appunto Mombazoo, My Summer Car, ho portato anche My Garage in due o tre episodi, insomma, e ce ne sono molti altri che stanno bollendo in pentola, insomma, sto aspettando l'ok degli sviluppatori. Per intanto, do il benvenuto ai nuovi, ovviamente chi mi conosce già, insomma, se voglio andare a vedere la live di io Tobi, che ha fatto su My Summer Car, insomma, è al minuto 22.30, insomma, dove ha parlato di me. È la prima volta che mi capita, onestamente, da quando il canale è aperto, di ricevere una citazione. Ripeto, mi spiace solo per il nome, perché forse, poi facendo anche un po' di autocritica, forse potevo anche essere più specifico, ma non avrebbe senso dopo praticamente otto anni, no, altro che otto anni, cambiare nome, quindi non ha senso. Ringrazio ancora io Tobi per la citazione e do il benvenuto a chiunque, guardando quella live, abbia deciso di darmi fiducia. Ragazzi, ai prossimi gameplay. Ciao ciao.